Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Formula 1 2020 signori siamo tornati con la Maullo Racing e io sono Maullo941 per portare avanti la nostra stagione di Formula 1 signori questo è il gran premio di Azerbaijan io oggi ho fatto le prove libere che sono andate così così diciamo ci siamo qualificati ultimi praticamente, abbiamo fatto l'ultimo tempo però non ho distrutto la macchina, almeno qualcosa già è questa ora abbiamo le qualifiche che sono con il sole e la gara 5 giri sotto il diluvio perfetto, proprio un ottimo weekend di gare su una gara in cui potremmo fare punti proprio alla pioggia che ci rovina qualsiasi tipo di prospettiva potenziale ottima detto questo signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram vi aggiorno con le storie, quando faccio le live e dove le faccio se su questa piattaforma o su quella viola e niente, detto questo signori, partiamo con il video ci siamo signori, siamo pronti per partire per queste qualifiche non perdiamo tempo, concentrazione, concentrazione, ce la facciamo ok, stiamo calmi stiamo calmi, allora il circuito è carino il circuito è carino, il problema è che se sbagli una curva ti ritrovi stampato a muro senza neanche sapere il motivo praticamente, nel tempo che ti chiedi cosa è successo sei già stampato a muro con la macchina già sul carrello abbiamo già perso un pezzo dell'alettone, va bene abbiamo già perso un pezzo dell'alettone, ma non non ci demoralizziamo, non ci demoralizziamo signori, il Gran Premio ancora la pista ancora è lunga, la pista ancora è lunga e questa curva l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo fatta bene signori, dai, dai, dai macchinina dai macchinina, dai macchinina mamma quanto ho frenato, mamma mia mi sono praticamente fermato in quella curva di lì in quella curva lì mi sono praticamente fermato dai così, va bene, ultimi, perfetto bella così, siamo a 22esimi signori ci hanno dato una pista, ci hanno dato una pista però va bene, non ce ne freghiamo noi ci facciamo nostra bellissima gara e vedremo di recuperare nel Gran Premio dai, dai, gira di qua bello così bello così, dai, dai, dai che qualche posizione la portiamo a casa dai, dai che riusciamo a recuperare qualcosina siamo a 21esimi, dai, un posto l'abbiamo recuperato queste curve sono veloci non ci riusciremo mai a farle con l'alettone rotto e invece, sì ci siamo riusciti, signori ci siamo riusciti niente male il cordolo ci ha fatto saltare abbiamo perso l'alettone completamente 17esimi 17esimi questa è una curva veloce no, dobbiamo frenare tanto quindi potremmo anche riuscire a guadagnare qualcosa qui 16esimi 18esimi mamma mia euro mamma, queste sono veloci queste non le posso fare più in velocità, signori ok, va bene va bene chiudiamo 20esimi, signori chiudiamo 20esimi, va bene cercheremo di recuperare qualcosa di impossibile cercheremo di recuperare alla fine nel Gran Premio tanto il Gran Premio è sotto il diluvio, raga io chi ci pensava più il Gran Premio è sotto il diluvio partiamo 20esimi peccato, peccato e va bene 20esimi va bene, va bene così vediamo di riuscire a fare qualche miracolo in pista anche se la vedo molto difficile, signori il nostro Samurai che ha fatto il nostro Samurai ha fatto peggio di noi 1.46 4.73 complimenti peggio di noi ha fatto solamente la Tifi con la Williams bello, bello siamo messi veramente bene in questo Gran Premio siamo messi veramente bene dai ci vediamo in pista, raga ci vediamo in pista sperando aspettate forse c'è Giorgia mi fa qualche qualche domandina a Giorgia lui ha preso 2 punti e io 1 mannaggia 17-17 parca paletta ambriaca pareggio pareggio con Crocian esperienza sale va bene dai questi poi li vediamo tutti a fine gara ci siamo signori siamo pronti a scendere in pista attenzione siamo sotto il diluvio universale il tizio non si sa cosa stia guardando si sta pigliando tutta l'acqua del cielo non c'ha né un cappello né un ombrello però va bene noi siamo pronti a questa disfatta signori perché so perfettamente che andrà male ma proviamoci proviamoci ci siamo leggermente addormentati sulla partenza leggermente addormentati sulla partenza riusciamo però a passare all'interno se questi non frenano di botto riusciamo forse a recuperare qualche posizione calma 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 siamo all'interno allargati allargati ok collisione con Sainz va bene non ce ne frega la cippa perché mi sta chiudendo la strada secondo voi Sainz prena 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 ok calma ho dato una botta non so a chi non ho dato una botta non so a chi però ti lascio lo spazio per passare zio basta che non mi rompi le scatole siamo decimi signori siamo decimi gran partenza gran partenza l'obiettivo è mantenere il nuovo frena 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 tra l'altro la macchina a me non frena più tanto bene quindi cortesemente vorrei evitare se io riuscissi a recuperare anche una sola posizione così piccola piccola grande il sorpasso sul Reconen siamo noni signori siamo noni puntiamo stroll puntiamo stroll puntiamo stroll puntiamo stroll ma stiamo attenti a non far cretinate perché vorrei portare se riusciamo a portare i punti a casa in questa gara signori è un miracolo io non vedo assolutamente una cippa di niente devo seguire la mappa perché sennò noi ci andiamo ci facciamo male pesantemente calma calma bravi tutti così infile indiana bravi ognuno al proprio posto ora qua c'è la frenata quella brutta quindi inutile che provo a pensare di infilarmi perché di qua non si passa va bene così freniamo leggermente curva di qua curva di là calma calma va bene così signori ci siamo ci siamo ok ok stiamo calmi stiamo calmi queste sono curve veloci che dobbiamo prendere con il muretto ecco come le dobbiamo prendere con il muretto le dobbiamo prendere con il muretto frena 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 zio frena 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 muro perché non mi frena questa cazzarola di macchina perché non freni macchinina sai hai dei freni installati i freni servono per frenare dico perché non freni macchinina perché non freni qua c'è un tizio che vuole passare mo non ti faccio passare anzi ti mando al muro riusciamo no vabbè raga ma hanno spinto al muro però dai avvertimento collisione con il racone non ho fatto niente io non ho fatto niente non ho fatto niente mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure tu vuoi passare all'interno io mi metto di qua così chi vuole passare deve passare all'interno all'esterno intanto inizia a frenare già da adesso perché noi non abbiamo più alettoni signori stiamo correndo senza alettoni infatti facciamo il giro largo Hamilton ci ha superato e anche Gasly perfetto l'importante sarebbe non farci superare da Ocon e riuscire quantomeno a portare la macchina a casa signori teniamo la decima posizione teniamo la decima posizione stiamo a fare da tappo vabbè Hamilton è imprendibile signori Hamilton è giusto che se ne vadi Hamilton è giusto che se ne vadi gli altri no gli altri li dobbiamo tenere dietro col dei unghie e con i denti freno macchina ma perché questa macchina non frena mannaggia devo cambiare i meccanici che si occupa dell'impianto frenante questa macchina non frena perché non frena questa macchina siamo sulla pioggia perfetto lo so che devo frenare 8 km prima ma io freno 8 km prima raga da dove inizia il bollino rosso poi non gira non gira non gira che cazzarola facciamo un po' di rally dai così dai così dovete stare tutti dietro tutti dietro dovete stare mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure vedete io inizio a frenare 8 km prima 8 km prima è sempre questa macchina che non gira attenzione qui attenzione qui che è zonaあるischio attenzione qui che sono a rischio attenzione qui che sono a rischio riesco a passare ok calma 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 dai così dai così dai così frena freno macchinina siamo decimi ci porteremo un punto a casa signori un punto a casa sarebbe tantissima roba siamo lentissimi in questa parte di qua della pista vabbè muro 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 siamo passati tutti sono passati tutti sono passati tutti Sono passati tutti, sono passati tutti Gasly, 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 levati Gasly Se non riesci a tenere la macchina in pista Devi levarti Gasly Questo Gasly che vuole per forza stare davanti E poi non riesce a fare manco le curve Dai è così, tu mi hai dato un colpo Grazie per avermi fatto girare Nooo Cos'è successo? Dimmi se stai bene Secondo disastro totale anche nell'Azerbaijan Una gara che era fattibile Una gara che era fattibile La pioggia ci ha rovinato qualsiasi progetto Di portare punti a casa Mamma mia Mamma mia che siamo messi male Mamma mia che siamo messi male E vabbè Vuol dire che doveva andare così Vuol dire che doveva la Mercedes festeggia Mandatevene a quel paese L'anno prossimo sarà la nostra stagione signori L'anno prossimo Vinciamo Vinciamo l'anno prossimo Come si com'è quel detto Anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo Mi sa de si Mi sa de si Mi sa de si signori Mamma mia che disastro Vediamo la classifica finale signori Noi ci siamo ritirati Nooo Il nostro samurai è arrivato al diciassettesimo Bravo samurai Però devi fare ancora meglio zio Devi fare ancora meglio Devi portare punti alla squadra Se no non facciamo niente Oh Giorgetta mia Ora vieni Me le fai almeno quattro domande Quattro domandine Me le fai quattro domandine Allora Giorgio C'è stato qualche piccolo Scontro Di chi è la colpa La dettora era mia Carlos ha sbagliato completamente Ancora noi diamo la colpa agli altri E va bene così Ti sei sentito a tuo agio sul bagnato oggi La mia vita non sarebbe divertente Se anche tanto non ci mettessi Non ci si dimettere No odio Sul bagnato si rischia di più Ma la mia squadra mi aiuta molto Ecco Dai Pensi che la Mercedes Speriamo che stia facendo Che cavolo Lavorano duro Migliorano sempre E imparano dai propri errori Boh Un'altra domanda Giorgia Un'altra domanda Dovevi farmi Giorgia Giorgia Ma perché mi cadi anche tu Su queste piccolezze Giorgia Preparatene un'altra Non lo so Dimmi Che gusto di gelato ti piace Dai Che come preferisci la pasta Mamma mia 4 a 0 Crocian C'ha Completamente surclassati 21 a 17 Eh va bene Gare rimanenti 2 Mizzica Oh noi saliamo a livello 6 Mazzucita Non so in che mania Il nostro samurai Migliora E la Mawlo Racing Rimane al 7 Al valore 7 Di Fama Ma è salito un poco Non prendiamo né soldi Nessuno prende soldi Ottimo Batti il tuo rivale in gara Non ci siamo riusciti Però mi portiamo dei soldini a casa Va bene L'importante è che qualche cosa La portiamo a casa 3 milioni e 7 3 milioni e 07 Va bene Va bene Va bene Ok Va bene ragazzoli Allora dopo questo ennesimo disastro Che non pensavo minimamente Ma anche in azerbagiane Siamo riusciti a fare un disastro totale Dopo questo disastro Signori Riusciremo a rilassarci dalle nostre ceneri E a puntare meglio Al prossimo Gran Premio Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Per i like Per il sostegno Per il supporto E per la pazienza Di guardare Queste disfatte terribile Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao